Cento anni fa, il 31 maggio del 1923, a Vasto, nasceva Edoardo Tiboni, giornalista, critico letterario, editore, ideatore dei premi internazionali Flaiano a Pescara, città che amava, in cui ha vissuto e lavorato fino alla scomparsa nel 2017. In tanti, per ricordare la sua figura, al Media Museum di Pescara, dove si è svolto un convegno a cento anni dalla nascita di Edoardo Tiboni, con le introduzioni di Gianni Melilla ed Enzo Fiviani e gli interventi, tra gli altri, del sindaco Carlo Masci, Elena Ledda, presidente centro studi d'Annunziani, Renato Minore, scrittore, e Carla Tiboni, presidente associazione Egno Flaiano, che dal padre ha preso il testimone. A Tiboni è stato tante cose, innanzitutto un giornalista, fondatore del giornale radio per l'Abruzzo e Molise della RAI nel 1953, nacque questo giornale che ha accompagnato un po' tutta la vita degli abruzzesi nel secondo novecento. Poi è stato un critico letterario, un intellettuale a 360 gradi, un organizzatore culturale che si è inventato istituzioni, premi, festival, che ha fondato una casa editrice, i premi Flaiano, che ha valorizzato i quattro grandi scrittori del Novecento, Benedetto Croce, Ignazio Silone, Gabriele D'Annunzio e Degno Flaiano, rivendicando l'abruzzesità di questi grandi intellettuali. E noi ci è sembrato doveroso, a distanza di cento anni dalla sua nascita, ci è sembrato doveroso ricordarlo, perché la gratitudine è non solo il sentimento del cuore, ma anche una cultura che dovrebbe ispirare tutti. Il commosso ricordo di Edoardo Tiboni della figlia Carla. Mio padre era sempre la stessa persona, è stata sempre la stessa persona, devo dire una persona molto fedele a se stessa, molto un padre amorevole, un sognatore per quanto riguarda la cultura, quindi diciamo che il vuoto è tanto, ma portando avanti i suoi progetti, i suoi sogni, e si riesce, diciamo così, a riempirlo un po'. E ovviamente siamo in una struttura che rappresenta il suo sogno più grande, che è quello del Media Museum e della costituzione di un museo del cinema.